Sono entrati con una pistola in mano e hanno rapinato una farmacia del quartiere Macchitella Gela. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato tutto e così nel volgere di poche ore i poliziotti del commissariato di Gela hanno trovato gli autori dell'atto criminoso. Sono stati arrestati Alessio Bartoli di 24 anni in atto sottoposto a detenzione domiciliare Michael Costarelli di 20 anni e Paolo Dylan Raitano di 18 anni. Bottino della rapina circa 400 euro. Questo è frutto dell'azione preventiva con la conoscenza ottimale dei soggetti che graudono in questi ambienti da parte della squadra di PG e degli uomini delle volanti. Ci tengo a sottolineare che sia da parte nostra che dei carabinieri l'azione investigativa sotto la direzione della procura sta andando avanti anche per gli altri episodi. Probabilmente la crisi economica e la voglia di denaro da parte dei giovani li spinge a gesti inconsulti come quelli che si sono periferiti negli ultimi giorni. L'importante è che l'attività di prevenzione, di repressione come si è detto prima sia stata efficace e efficiente e abbia raggiunto l'obiettivo assicurando alla giustizia i responsabili. Ancora scosso il proprietario della farmacia al quale i malviventi hanno anche puntato la pistola alla testa. Mi hanno puntato la pistola in testa, sono andati nella cosa della cassa, nel registratore cassa, si sono presi quello che si dovevano prendere e c'è stato uno che mi intimava dammi soldi, dammi soldi e io gli dicevo sono là i soldi, prendetele, non lo vedi che sono là e questo sembra che mi strattonava, questo che mi strattonava era, non so se era ubriaco, faceva una puzza proprio di quelle, purtroppo, e addirittura sono stato trascinato quasi fuori qua sulla porta e il tizio, uno di questi due, che gli diceva sparaci, sparaci. Cosa vuole che le dica? Noi, purtroppo, purtroppo, la nostra farmacia, voglio dire, è qua, ci lavoriamo tutti, che dobbiamo fare, non c'è altra via. Sono stati arrestati, sono contentissimo, perché proprio le telecamere, le sette telecamere che abbiamo qua in farmacia, proprio li hanno ripresi in pieno, ecco.